Nel pomeriggio di ieri 12 marzo i carabinieri della compagnia di Urbino durante un servizio di controllo hanno arrestato un uomo di origine albanese di 40 anni operaio ed incensurato. I militari che erano di pattuglia fuori dal centro storico della città di Urbino durante un posto di controllo alla circolazione stradale hanno fermato uno straniero che sin da subito però ha mostrato segni di ingiustificata agitazione cosa che ha subito insospettito i due carabinieri che a quel punto hanno approfondito il controllo procedendo così alla perquisizione dell'auto del quarantenne. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti occultati all'interno di un'intercapedine appositamente ricavata nel bagagliaio 57 grammi di cocaina purissima. I militari a quel punto visto il ritrovamento hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione dell'albanese dove hanno trovato all'interno del domicilio altri 13 grammi di sostanza stupefacente sempre del tipo cocaina suddivisa però in dosi e già pronta per lo spaccio al dettaglio. Un bilancino di precisione per la pesatura e materiale idoneo al confezionamento della droga. Il fermato è stato così arrestato e sottoposto ai domiciliari e la giornata di oggi è stato giudicato con rito direttissimo presso il tribunale di Urbino e ha patteggiato una condanna a sei mesi di pena. I militari nell'ambito delle attività svolte per la prevenzione del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a seguito hanno appurato che la cocaina sequestrata fosse destinata così alla movida dei giovani del centro storico di Urbino soprattutto all'interno dei locali di intrattenimento e di ritrovo notturno.